Ah no, ha calmato il virus Come avete potuto notare Reazione pacata e per nulla Cringy Ubisoft e soprattutto abbiamo anche Estratto il CD che vi avevamo Promesso nel caso in cui Ubisoft Avesse annunciato proprio un nuovo Rainbow Six Così è stato e il vincitore Dal nome davvero particolare G.G era Al settimo cielo e questa è una cosa Che a me e a Marco ha fatto immensamente Piacere. In sottofondo state Vedendo il trailer mostrato ieri sera Da Ubisoft intitolato Clutch Royale con protagonista Warden Che è servito proprio a presentare Phantom Sight che esce oggi Su tutte le piattaforme. Quindi Oggi è il gran giorno quello dell'aggiornamento Abbiamo anche gli orari della Manutenzione che sono su PC Dalle 15 alle 16 Su PS4 dalle 16 alle 17 E su Xbox One Dalle 16 alle 18 Sì non è un mio errore Sono due ore Ci vorrà un po' più tempo su Xbox Non si conosce ancora il peso dell'aggiornamento Ma nel caso ve lo scriverò qui sotto Nel primo commento Quello fissato in atto Al termine della manutenzione Quindi come al solito Sarà possibile scaricare Phantom Sight E noi andremo in live Insieme di nuovo Su Twitch Stavolta ci sarò io Di pomeriggio Perché Marco è a Milano A fare robe sue Quindi diciamo che Dalle 3 e mezza circa Dovreste già beccarmi online Vi lascio anche questo link Sia in descrizione Che nel primo commento Vi aspetto di nuovo In tantissimi Sicuramente andremo a fare Le prime partite di classificazione Che cosa vuol dire Che esce Phantom Sight Che oggi 11 L'aggiornamento sarà disponibile Per tutti Possessori E non possessori Del Season Pass Il grado verrà resettato A tutti Dovrete fare tutti quanti Anzi dovremmo fare tutti quanti Le 10 partite di classificazione Anche il rework di Caffè Dostoieschi Sarà disponibile per tutti L'unica differenza È su Nook e Warden I due nuovi operatori Che saranno disponibili Gratuitamente Solo per i possessori Del Season Pass Dalla settimana prossima Quindi dal 18 Saranno disponibili Anche per gli altri player Al costo di 25.000 crediti Fama Oppure spendendo Crediti R6 Quelli a pagamento Per quanto riguarda L'aggiornamento C'è stato un ulteriore comunicato Da parte di Ubisoft Sulla Patchnote Innanzitutto L'avrete letto dal titolo Mi sa Il dropshot è tornato È un bug La Ubisoft non voleva reinserirlo Non mi nascondo Che penso sia dovuto A qualche modifica Che stanno facendo Al movimento Degli operatori Purtroppo questa meccanica odiosa E lo so che magari Non tutti condividerete Ma per me è odiosa È venuta fuori Solo negli ultimi giorni Del TTS Quindi dovranno Sistemarla quanto prima Speriamo di avere notizie Quanto prima Per ora Non si conosce La data di risoluzione Sempre all'interno Del comunicato C'è un passaggio Sui buff E i nerf Di cui vi ho già parlato Però vi faccio Anche qui Un rapido recap Per quanto riguarda Il funzionamento Dei gadget Di Vigil e Caveira Verrà modificato Per assomigliare A quello di Nook Che cosa vuol dire Che mentre prima Per riutilizzare L'ERC di Vigil O il passo felpato Di Caveira Dovevate aspettare Che si completasse Totalmente La ricarica Dell'abilità Da oggi Non sarà più così Basterà infatti Che l'abilità Avrà superato Il 20% Della sua ricarica Per poter essere Riutilizzata Per quanto riguarda Frost invece Gli HP Dei tappeti trappola Sono stati ridotti Da 100 A 66 Cioè ci vorranno Due colpi Per distruggerli E non più 3 Tendenzialmente Ve l'ho già mostrato In un video precedente Anche di Kaid Vi avevo già parlato E nei commenti Ci siamo detti Soprattutto Quei Kaid Main Che questa modifica Non è stata affatto Apprezzata Dai player Cioè Gli hanno sostituito Il filo spinato Con il C4 Il motivo Alla base Di questa decisione Però Non è molto chiaro Non penso Fosse necessario A pulse Invece hanno Velocizzato Lo switch Tra il sensore cardiaco E l'arma Precisamente Abbassandolo Da 0,8 secondi A 0,65 secondi Per twitch Un piccolo nerf Che riguarda L'F2 Ovvero Gli hanno aumentato Il rinculo Ma non è nulla Di esagerato Anche questo Ve l'ho mostrato Nel video precedente Bella notizia Bella notizia Per quanto riguarda Il problema Della propagazione Dei suoni Che ci affligge Da un sacco Di tempo Su Siege Stando al comunicato Dovrebbero aver risolto Per buona parte Questo problema Dovrebbero aggiungere Qualche piccolo fix Per quanto riguarda Le pareti distrutte E poi rinforzate Però Ci siamo Capitolo glitch Invece Contrariamente A quanto pensavamo Rivedremo Claymore Scudi mobili E Clash Nuovamente nel gioco Hanno aggiunto Un fix parziale Al momento Per risolvere Questo problema E molto tecnico Quindi non scendo Nel dettaglio Però potremmo Riutilizzarli E non dovremmo Avere problemi Ma per essere sicuri E per non dover Togliere Nook e Warden Come già vi dissi In un video precedente Hanno deciso Di lasciare Al momento Le granate D'impatto Al difensore Invece Dello scudo mobile E le flashbang All'attaccante Invece Della Claymore Così Qualora Si dovessero Verificare Nuovamente I glitch Non sarebbero costretti A toglierli Dal gioco Arriverà Comunque Un ulteriore Aggiornamento Durante la season Per prevenire Del tutto Questo tipo Di problematiche Passiamo infine Alla cosa Più interessante Di tutta La conferenza Di ieri sera Rainbow Six Quarantine Ci avevo preso Anche sul nome Con questo trailer Che sostanzialmente Non mi ha dato Nessuna risposta Ma mi ha fatto avere Solo ulteriori Domande Al riguardo E' stato presentato Il nuovo capitolo Di Rainbow Six Per quanto riguarda La saga In sé Per i cultori Di Rainbow Six Forse si allontana Un po' Anzi un bel po' Da quelle che erano Le origini A quanto pare Non ci saranno Dei terroristi Da combattere Nonostante la modalità Sia in PVE Quindi una sorta Di The Division Per intenderci Contro il computer E non sappiamo Se verrà giunto Poi magari Un PVP Più avanti Anche se ne dubito Perché penso Che il PVP Di Rainbow Six Resti Siege E basta I player Dovranno affrontare Probabilmente Degli infetti Come si è visto Rainbow Six Quarantine Si tratta Di un nuovo gioco Non è un'espansione Di Siege Ma è ispirato Sicuramente Da Siege E addirittura Vedremo alcuni operatori Tra cui Ela e Vigil Mostrati nel trailer E in un'immagine In questa dall'alto Che vi sto mostrando Ora Si vede anche Lion Non sappiamo Se ce ne saranno Degli altri Non sappiamo Se verranno aggiunti Nuovi operatori Ma sicuramente L'influenza di Outbreak È evidente Anche solo nel trailer Gli operatori di Rainbow Quindi dovranno affrontare Una nuova specie Di parassita alieno mutato E lo vediamo Anche spandersi Nel braccio Di questo Possibile operatore O civile Non sappiamo Chi stanno andando A salvare E stando a quello Che hanno detto Il nemico sarà Molto più letale E stimolante Di quello visto Su Outbreak In quanto infetta Gli ospiti umani E anche l'ambiente circostante Il gioco Dovrebbe essere a missioni Così come è stata Sempre la tradizione Dei precedenti Rainbow Six Saranno abbastanza Caotiche E molto imprevedibili In tantissimi Mi avete chiesto Di analizzare il trailer Ma sostanzialmente Si vede pochissimo L'ho guardato Frame per frame E sicuramente Si tratta Di un civile Barra operatore Infettato A cui sta aumentando Il battito cardiaco Perché spaventato Da questi mostri Che si aggirano All'interno Di questa sorta Di lavanderia E probabilmente Proprio a causa Del battito cardiaco Accelerato Il parassita Che lo ha infettato Si sta diffondendo Con maggior rapidità Nel momento in cui Però vede entrare in scena Ela e Vigil Si inizia a calmare E a quel punto Tra l'altro Lo strano gadget Che ha al polso Gli inietta Una sorta di medicina Penso Che lo cura Almeno momentaneamente Per il resto Non ci hanno detto Più nulla Ma ci hanno caricato Di hype Dicendo che Rainbow Six Quarantine Sarà disponibile Nella prima parte Del 2020 Su PS4 Xbox One E PC Noi sicuramente Lo acquisteremo E lo porteremo Sul canale Anzi Vi dico ufficialmente Che da oggi Qualora ci dovessero essere Novità Riguardanti il gioco Avrete dei video E dei post al riguardo Del resto Noi siamo Rainbow Six Italian Community Quindi trattiamo Tutti Rainbow Six Passaggio obbligatorio E velocissimo Sulle cose che più Mi hanno interessato Del resto Della conferenza Di Ubisoft Sicuramente Watch Dogs Legion Ho platinato I precedenti due Ma quando ho visto La vecchietta Che schiattava di mazzate I nemici Me ne sono innamorato E ve lo porterò Sicuramente in live Su Twitch Data d'uscita 3 marzo 2020 Su Ghost Recon Breakpoint Mi sarei aspettato Qualcosina in più Però l'apparizione Di John Bertrand L'attore di The Walking Dead E di The Punisher Di cui ho il poster Sulla parete Al mio fianco Ha dato Quel qualcosina in più Arriverà il 2 ottobre 2019 E la beta Sarà disponibile Dal 5 settembre Sono stati mostrati Alcuni contenuti Per i giochi Già disponibili Di Ubisoft E soprattutto È stato presentato LuPlay Plus Il tipico servizio Che dà accesso Illimitato Al parco titoli In questo caso Di Ubisoft E in questo caso Al prezzo Di 15 euro al mese Infine sono stati presentati Nuovi giochi Come Roller Champions Che ho già scaricato Perché la beta Sarà disponibile Fino al 14 giugno Su PC Gods and Monsters Che mi ricorda Un po' Zelda E soprattutto Tom Clancy's Elite Squad Che è un gioco Per mobile In cui compaiono Anche Montagne Caveira E in cui Penso verranno aggiunti Gli altri operatori Di Siege Prima o poi E già so Che diventerà Una malattia Però vi lascio Tutti i link Di registrazione Alle beta E alle demo Qui sotto In descrizione Vi ricordo Che vi aspetto In live Non appena L'aggiornamento Andrà online E che il link Li trovate Qui sotto In descrizione E penso Che il recap Pone termini Qui Lasciate tantissimi Like al video Qualora vi fosse piaciuto Iscrivetevi al canale Attivando la campanella E noi Come al solito Ci vediamo Alla prossima Alla prossima